Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per uno sciopero di benzinai, alcune aree di servizio della rete autostradale rimarranno chiuse nella giornata di oggi. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. A Pistoia, per lavori di ripristino strutturale al viadotto sul torrente Ombrone, in località Capostrada, ha chiusa la bretella di collegamento tra la strada regionale 66 Pistoiese e la statale 716 Raccordo di Pistoia. In FIPILI, per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone, possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie e buon viaggio!